Buon pomeriggio, ben trovati a Expo Calabria, un'altra puntata con voi per raccontarvi la partecipazione della Calabria a Expo, per raccontarvi anche la prossima settimana, la settimana del protagonismo che vedrà la nostra regione ancora protagonista nella Padiglione Italia, ma soprattutto per raccontarvi la Calabria che non ti aspetti, la Calabria delle eccellenze e ne parliamo questo pomeriggio con noi in studio. Ci sono due imprenditori, ma non solo, intanto il dirigente generale del settore agricoltura della regione Calabria, Carmelo Salvino, buon pomeriggio, ben trovato, e con noi Fulvia Caligiuri che è un'imprenditrice dell'azienda Torre di Mezzo Milk, ma è anche rappresentante di Confagricoltura Cosenza, presidente di questa confederazione del territorio cosentino, ed è con noi l'imprenditore Diego Mallamaci dell'azienda agricola Mallamaci che ha sede su Reggio Calabria che produce lo zafferano. Uno veramente non se lo aspetta che in Calabria ci sia una produzione del genere, ma ne parleremo chiaramente diffusamente nel corso di questa puntata. Lo dicevo in apertura, dopo l'ottimo successo della regione Calabria nel mese di agosto con il boom di record di presenze a Expo nella Padiglione Italia, sarà ancora una settimana tutta dedicata alla Calabria, quella che è la prossima settimana, quindi nella settimana del 25 di settembre con la settimana del protagonismo. Allora io chiedo subito al dirigente Salvino, insomma state lavorando per dare vita a un'altra serie di eventi, tutti firmati Regione Calabria, che cosa ci aspetta? Diciamo che stiamo lavorando molto in buona lena perché l'appuntamento è un appuntamento impegnativo, Expo è una vetrina internazionale importantissima, fino ad oggi ritengo come Regione Calabria abbiamo fatto bene e vogliamo continuare con la settimana del protagonismo a fare molto bene. E' una settimana densa di incontri, densa di iniziative, inizia il 24 di settembre, quindi venerdì prossimo e si concluderà il 30 di settembre. E' una settimana che si sviluppa per aree tematiche, la prima area tematica riguarda il paniere delle eccellenze calabrese, quindi tutti i prodotti che riguardano i marchi doppi e il GP della Calabria, poi ci sarà la settimana dell'olio, la settimana del vino, la settimana del cedro e che sono intervallate anche da convegni scientifici che vedrà il suo culmo il 28 con un convegno di carattere internazionale sulla dieta mediterranea, quindi richiamando al padre fondatore di questa importantissima dieta, i prodotti delle eccellenze calabrese la faranno da padrone in questo discorso. Noi vogliamo che oltre alla presentazione dei prodotti ci sia anche la storia, la cultura e la tradizione che attengono a questi prodotti, quindi vogliamo dare uno spaccato quanto più possibile caratterizzato da scientificità su questi temi e in questi temi noi caleremo la presenza dei nostri prodotti agroalimentari che si stanno di più affermando come eccellenze in questo Expo. La settimana del protagonismo è una settimana che conclude una serie di iniziative che già abbiamo fatto a partire da maggio fino a settembre, dove appunto abbiamo voluto che i territori fossero i protagonisti di queste nostre iniziative. È stata importantissima una settimana gestita a rotazione dei gruppi di azione locale che ha avuto accessi molto significativi. Oggi i Galli hanno concluso anche la loro presenza al mercato per il metropolitano che è all'attere dell'Expo. Quindi abbiamo cercato di offrire al sistema agroalimentare calabrese una vetrina per presentare non solo la storia della Calabria, ma anche la bondà e la qualità dei nostri prodotti. Sicuramente una vetrina straordinaria. Ci auguriamo che poi dopo questa promozione ci siano concretamente anche dei risvolti positivi per le nostre aziende, per i nostri produttori, che poi portano anche le nostre eccellenze in giro per il mondo con l'esportazione. Ce lo auguriamo. Intanto Fulvia Carigiuri tra l'altro rappresenta, lo dicevo, non solo l'azienda Torri di Mezzo Milk, ma anche le aziende tante associate a confaricoltura a Cosenza. Lei c'è già stata a Expo e ci tornerà chiaramente? Ci tornerò almeno un altro paio di volte, se non tre. La prima volta che ci sono andate è stata un'esperienza che non mi aspettavo, devo essere sincera, perché è un'esplosione di colori, di luci, di sapori, di suoni. Infatti con chi mi trovo a parlare dico che forse è importante portarci i bambini in questa bellissima esperienza, perché basta poco per rendersi conto delle diversità, delle diverse modi di vivere, dei diversi modi, usi, costumi che ci sono, perché là è molto visivo, quindi non c'è bisogno poi di entrare nel particolare per capire molte cose. Quindi l'ho trovata un'esperienza veramente bella. Poi c'è l'altro punto di vista che interessa più a me in questo momento come imprenditrice, come rappresentante di confaricoltura a Cosenza, che è la possibilità di mettere in mostra le nostre eccellenze, i nostri sapori, il nostro modo di saper fare agricoltura al passo coi tempi. Ed è la vetrina che ci piace di più. Non è tanto un'esposizione dei prodotti e un assaggio dei prodotti, anche perché insomma Expo si è capito da subito che non doveva essere questo, cioè non doveva essere una fiera nel quale andare ad assaggiare i nostri bellissimi e buonissimi prodotti. Doveva essere qualcosa in più. Dovevamo far vedere anche come sappiamo produrre, in che modo riusciamo a produrre, in che modo riusciamo a essere sui mercati internazionali. Perché la nostra sfida grande è quella di poter raggiungere i nostri mercati, ma anche i mercati internazionali. Parlo come imprenditrice che troppo spesso purtroppo non ha trovato sui mercati nazionali uno sbocco che gli permetteva di coprire i costi, perché in perfetta concorrenza con mercati che avevano dei costi di produzione molto più bassi, è necessariamente, quindi non è stata una scelta come a dire, sai che c'è, abbandono il mio mercato e me ne vado fuori. È stata una scelta dettata anche da possibilità di avere su quel reddito qualcosa in più, perché altrimenti non eravamo messi sullo stesso piano con paesi che avevano dei costi molto più bassi. La concorrenza anche dei mercati esteri in Italia, che è questo insomma per un'azienda che... E infatti come dicevo prima, Expo mi piace e continua a piagermi perché insomma è proprio mettere in evidenza quello che sappiamo fare, nonostante le difficoltà, insomma infrastrutture che non ci permettono di andare con una tale facilità sui mercati internazionali, rispetto ad una Spagna, una Francia, una Germania, che insomma in una mangiata di ore sono dove vogliono essere. Per noi insomma è un po' più difficile e in questo vorremmo sentirci anche più tutelati dall'istituzione. Mi fa piacere che c'è vicino a me il direttore generale perché insomma mi può confortare in questo. E poi anche perché insomma ci tengo a dire che nonostante queste difficoltà noi continuiamo a produrre da una vita. Noi rappresentiamo chi le nostre aziende non le vuole abbandonare. Anche perché non è facile, no? Un'azienda industriale può chiudere e riapre il giorno dopo. Noi abbiamo i nostri terreni, noi abbiamo i nostri animali, noi abbiamo le nostre colture che non possono essere cancellate con un colpo di spugna così. Alcune volte dico vado in transumanza con i miei animali scherzando perché i miei animali non vanno in transumanza, ma vado in transumanza verso altri lidi. Ma non mi è possibile perché io voglio bene a questo territorio, perché sono legata a questo territorio e così mi sento di dire tutte le altre imprese che rappresento oggi come Confagicoltura Cosenza. Parleremo anche diffusamente di innovazione in agricoltura, di quello che anche la Regione Calabria sta facendo, sta programmando con il nuovo PSR. Però ora voglio andare da Diego Mallamaci per sapere e anche capire la presenza della vostra azienda a Expo. Ci siete stati, ci tornerete. Soprattutto questo zafferano calabrese, cos'è di così particolare? Sì, siamo stati a Expo mentre eravamo alla fiera del tutto food e quindi siamo andati a visitarlo. Saliremo per la settimana del protagonismo, che parteciveremo anche con i nostri prodotti per la settimana del protagonismo. Quindi cerchiamo di dare anche un contributo con la nostra azienda per quanto riguarda la Calabria. L'azienda dello zafferano sembra una cosa un po' strana perché in Calabria non si conosce. Il fatto che molte volte ci dimentichiamo, diciamo che tralasciamo delle culture che sono molto antiche perché lo zafferano si produceva in Calabria. Quindi facendo delle ricerche storiche nella storia del regno di due Sicilie, lo zafferano si produceva sia in Calabria che in Abruzzo. Quindi... Che tra l'altro sono due territori morfologicamente anche molto simili. Sì, infatti. Ecco, io ho fatto non intanto che trovare su delle ricerche di... cioè diciamo un alimento che da noi era quasi abbandonato, cioè abbandonato e quindi l'ho riportato un'altra volta. Tra l'altro un alimento richiestissimo dal mercato che ha anche un ottimo prezzo sul... almeno quando gli arriva al consumatore. Sì, un ottimo prezzo richiestissimo perché diciamo che noi italiani con lo zafferano riusciamo solo a produrre il 30% che fa bisogno italiano. Quindi tutto l'altro zafferano che arriva è arrivato dall'estero, dall'India, dalla Spagna, che non ha la stessa qualità. Quindi molte aziende diciamo ora stanno nascendo a produrre zafferano anche se il costo è molto elevato, quindi anche nella vendita diciamo che ci sono le aziende estere che diciamo abbattono i prezzi per via della manodopera e per via anche della qualità. E voi naturalmente attorno allo zafferano come azienda agricola avete realizzato una serie di prodotti tutti a base di zafferano. Sì, siamo partiti con lo zafferano che era l'elemento principale della nostra azienda. Da lì abbiamo creato altri prodotti per ampliare il nostro paniere che è la pasta aromatizzata allo zafferano, il miele d'acacia aromatizzato allo zafferano che io non ho inventato nulla perché è una ricetta che risale agli antichi egizi. Quindi avete recuperato un'antichissima ricetta. Si, si chiamava ambra liquida, infatti anche noi l'abbiamo richiamata ambra come miele e poi l'olio aromatizzato allo zafferano. Siamo in collaborazione con alcune aziende calabresi che producono olio, quindi facciamo sinergia per rimanere in Calabria. E poi produciamo, e ora si stanno uscendo altri nuovi prodotti che cerchiamo di farli uscire per quest'anno come l'essale aromatizzato allo zafferano. Quindi in Calabria si fa agricoltura di eccellenza, di qualità, di innovativa soprattutto che recupera la storia, le nostre tradizioni. Vedi cosa c'è dietro ad un prodotto. Tante volte magari ce lo dimentichiamo anche. Allora voglio andare al dirigente Salvino perché tutte queste due aziende che è la Torre di Mezzomilk e l'azienda Arricola Malamaci che sono qui, che ci hanno raccontato anche un po' le loro difficoltà, il lavoro che fanno, come sono partiti anche. Sono due esempi di una Calabria che vuole crescere, vuole fare impresa e cerca di farlo al meglio. Quindi con la Regione Calabria, con il nuovo PSR, insomma raccontiamo un po' che tipo di lavoro si sta facendo e come dare risorse per far crescere le nostre imprese. Diciamo che le due aziende che sono qua oggi presenti sono, come dire, molto significative di quello che è il sistema agroalimentare della Calabria perché accanto alla consolidata esperienza maturata negli anni dell'azienda della dottoressa Caligiuri c'è quella del dottor Malamaci che se non ho capito male è un'azienda di nuova costituzione ed è un'azienda che opera anche in un settore, se vogliamo, di nicchia. Perché non è che di zafferano c'è come una necessità di quantitativi, potrebbe essere diciamo... Chiaro, non ci sfamiamo di zafferano... Non ci sfamiamo, non ci sfamiamo... E quindi questo è solo, diciamo, un esempio, diciamo, di quello che si muove intorno al sistema agroalimentare calabrese. Ecco, noi con gli strumenti di programmazione che stiamo mettendo in atto e che a breve saranno approvate dalla Commissione Europea vogliamo, come dire, colpire due aspetti. Aumentare la competitività delle imprese, quindi imprese che stiano sempre di più sul mercato, quindi favorendo l'innovazione, 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 favorendo la formazione di queste imprese, favorendo l'aggregazione, diciamo, di queste imprese e dall'altro vogliamo, come dire, favorire un ricambio generazionale in agricoltura, favorendo nuovi insediamenti dei giovani agricoltori, quindi favorendo i primi insediamenti, ma soprattutto anche favorendo quelli attraverso i gruppi di azione locale che hanno ben operato in questa programmazione che oramai volge al termine, proprio per andare, diciamo, a sostenere sul territorio quelle aziende che non hanno, diciamo, una grandissima produzione, ma che producono, producono come l'azienda Malamai, ma ce ne sono altri esempi prodotti che hanno una loro collocazione ben precisa sul mercato. Ecco, il PSR che noi stiamo costruendo deve cercare di tenere insieme questa diversa articolazione del sistema agroalimentare calabrese che oggi qua, diciamo, è ben, attraverso queste due presenti, diciamo, è ben rappresentata. Nell'elencare i punti su cui, insomma, vi state basando per la costruzione del PSR che tra l'altro è allo studio della Commissione Europea, speriamo, insomma, ci sia l'ok al più presto in modo che si possa partire, chiaramente parlava del sostegno anche ai giovani nell'ingresso, insomma, in agricoltura, a creazione di nuove aziende. Fulvia Carigiuri è un giovane imprenditore che ha ereditato un'azienda di famiglia, un'azienda storica di famiglia, ma ecco, i giovani quando entrano in agricoltura, nel caso anche di Manlamaci, poi ci spiegherà la sua storia, portano innovazione, portano, insomma, dinamicità anche nell'azienda. Beh, assolutamente sì. Quindi ci racconta anche la sua esperienza. Io ho avuto la fortuna, insomma, di entrare in un'azienda che mio nonno aveva acquistato questi terreni, ma intorno al 54. Erano però terreni nella piana di Sibari, prima dell'azione di Bonifica, quindi, diciamo, non si poteva coltivare granché, se non un'agricoltura di tipo estensivo. Dopo l'operazione di Bonifica è stato possibile cambiare la tipologia di coltura e quindi passare a un'agricoltura di tipo intensivo, quindi fruttetti e quant'altro. Da questo tipo di modifica, quindi siamo intorno agli anni 60, sono subentrati mio padre e mio zio che hanno creato, insomma, l'azienda. Quindi io mi ritengo una persona super fortunata, non ho dovuto fare granché di sacrifici, mi sono trovata, insomma, il piatto pronto. Però poi con le sfide del futuro. Con le sfide del futuro, certo, ci mancherebbe altro, no? Ci mancherebbe altro. Però volevo dire, a parte il fatto che non sono, ringrazio per la giovane, ma non sono più giovane come PSR, perché purtroppo fino a 40 anni eravamo passati, però a parte questo, è una sfida per i giovani agricoltori che si affacciano oggi. Perché, come diceva anche l'imprenditore Mallamace, che è un'azienda comunque di giovane costituzione, ce ne sono tantissimi che si vogliono avvicinare al settore agricolo e trovo giustissimo che nel PSR venga dato maggiore risalto e slancio agli giovani che si vogliono avvicinare. Molti mi parlano di Zafferano anche nella provincia di Cosenza, molti mi parlano di diverse tipologie, anche nuove, e anche lì un'innovazione. Il kiwi giallo. Il kiwi giallo nella piana di Sibari, così come il kiwi nella piana di Rosarno. Cioè, ci sono tanti giovani che si vogliono affacciare. E in un momento di grosse difficoltà, grosse difficoltà di mercato, è giusto anche che si pensi a qualcosa di diverso. Usciamo da una campagna peschicola, faccio l'esempio della campagna di peschicola, perché mi riguarda e riguarda, dove è il secondo anno costitutivo che il mercato non ci rende onore. Cioè, vengono chiusi dei prezzi alla vendita molto bassi. Perché, tra le altre cose? Perché c'è un quantitativo di prodotto che è eccessivo. Nostro, insieme agli altri competitor internazionali. Anche lì, quindi, va fatta una discussione seria. E sono anche input che io do al direttore vicino a me, perché bisogna ripensare il comparto frutticolo. Non possiamo ogni anno andare a gestire una crisi di mercato o un qualcosa del genere. Bisogna anche pensare a nuove tipologie di cultura, quindi innovando anche culturalmente, non lasciando gli stessi impianti oramai vetusti, che quindi vanno rivisti, e innovando naturalmente anche con l'ingresso di persone giovani che abbiano voglia di innovare e di modificare anche le regole del mercato, perché anche qualcosa dipende da lì. Parlando di innovazione, la sua è l'azienda innovativa, soprattutto anche della tecnologia che si usa nell'agricoltura. Anche se, insomma, noi abbiamo una parte ortofrutticole, una parte appunto del settore del comparto latte, con una stalla interna. E noi stiamo rifagendo, grazie a una misura del PSR, tutta la stalla aziendale con, insomma, innovazione. Poi vediamo delle immagini, perché chiaramente, voi lavorate anche molto con le scuole che vengono a visitare la vostra azienda. Sì, ogni mercoledì abbiamo visite guidate, partiamo dall'asilo fino ad arrivare all'università. Non facciamo sconti a nessuno, nel senso che vengono tutti, naturalmente, gratuitamente, e vogliamo che sia così. Infatti alcune volte mi dicono, ma tu ogni mercoledì perché ti dedichi a queste visite? Perché, dico sempre, fino a quando ci sarà una persona che mi dice, anche in Calabria ci sono realtà del genere, io continuerò a farla. Perché dobbiamo credere prima a noi, nelle nostre potenzialità, a noi calabresi, e poi possiamo andare a conquistare tutto quello che vogliamo. Però dobbiamo crederci, e stando, permettetemi di dirlo, uniti, ma in che senso? L'aggregazione di cui parlava prima il direttore è estremamente importante. Ma chiamiamola come vogliamo, stare insieme come organizzazioni produttori, stare insieme come rete, ci sono degli strumenti oggi che ci vengono dati che dobbiamo saper cogliere. Per esempio lo strumento della rete tra aziende, per me è importantissimo. Chiamiamo quindi l'aggregazione come vogliamo, cooperative, come si vuole dire. Perché solo stando insieme si riescono a superare dei problemi che noi abbiamo. Perché è vero che oggi parliamo di eccellenze. E io sottoscrivo che siamo bravissimi a produrre i nostri prodotti agricoli. Siamo un po' meno bravi a venderlo. E una parte di questa minore bravura è dettata dal fatto che io mi vendo il mio piccolo quantitativo, chi sta vicino a me cerca di vendere il suo. Non vendo bene il mio e non si vende bene il suo. Se forse pensassimo di unire le nostre produzioni e di stare insieme sui mercati, che fagocitano tutto, perché si parla di quantitativi enormi, forse andremmo bene sia io che il mio vicino. Diciamo che ci sono già delle esperienze di organizzazioni di produttori, ma sono poche rispetto alla... No, ma l'esperienza è anche delle eccellenze di organizzazioni di produttori che continuano ad operare in maniera eccellente sul nostro territorio. Ce ne dovrebbero essere tante altre. Le OP sono sempre troppo poche, i produttori che si associano alle OP devono essere ingentivati e in questo il PSR può far molto, il nuovo PSR, nel senso uno strumento che dia un maggiore incentivo a chi partecipa. Ma questa è la direzione che è stata presa, che si dia un incentivo in più a chi decide di non andare da soli in un investimento, ma di andare attraverso le organizzazioni produttori e quindi aderire a queste OP. Allora, voglio andare all'imprenditore Mallamaci, perché voglio che ci racconti anche la storia innovativa di questa azienda, che è un'azienda abbastanza recente, è una guida di un giovane che ha recuperato un po', ecco, lo diceva prima all'inizio del suo intervento la storia, insomma, di questo prodotto, lo zaffreno che già si coltivava qui e che ha deciso di rimettersi, insomma, in gioco. Sì, la mia azienda è nata, perché è stata costituita da me, non mi è stata tramandata dai miei genitori, l'unica cosa che mi è stata tramandata è, diciamo, la passione per la campagna e la passione per produrre un qualcosa che, diciamo, è stato dimenticato nel tempo. È giovane perché è nata nel 2006 e abbiamo fatto molti studi per capire la qualità del prodotto, come doveva uscire e se usciva, perché con tanti anni, diciamo, di margine, dobbiamo capire se anche a livello meteorologico era cambiato qualcosa, insomma. si poteva produrre una qualità da poter entrare nei mercati e quindi, diciamo, essere in competizioni con altri mercati che già lo producono, come, vabbè, sappiamo tutti, Navelli, Sardegna e cose varie. Ho visto che, diciamo, che l'azienda non è tecnologica perché non può essere tecnologica. Il prezzo dello zafferano è molto elevato perché è tutto lavoro manuale, dal piantare i bulbi a raccogliere i fiori, alla lavorazione, tutta manuale. E ancora oggi non esiste un macchinario per poter fare la meccanizzazione di questo prodotto. Quindi stiamo vedendo delle immagini proprio dei terreni dove viene coltivato lo zafferano che si presenta sotto forma con questi fiori. Fiori, sì. Un fiore dove all'interno ci sono tre stimmi e quello poi il rosso è lo zafferano che viene raccolto e poi essiccato. Per fare un chilogrammo di zafferano ci vogliono 150.000 fiori. Aiuto! 150.000 fiori che... Che occupano quanti ettari? Per fare un chilogrammo diciamo che occupano 2.000 metri, 3.000 metri perché i bulbi sono piantati molto vicino l'uno dall'altro e quindi non ci vuole una grande estensione. L'importante è che sia a un livello di 450 metri sul livello del mare che ci sia sole e che il terreno è abbastanza telenante perché lo zafferano non ne vuole acqua. Bastano solo le piogge che sono da agosto da quando si pianta a ottobre da quando si raccoglie. Quindi si raccoglie a ottobre quindi siete già in fermento per la raccolta? Molto in fermento abbiamo già superato la campagna per il piantare i bulbi quindi alla fine ogni anno noi li ripiantiamo perché non li lasciamo come fanno molte altre aziende per tre anni proprio per avere una qualità superiore anche se è un lavoro diciamo abbastanza massacrante però abbiamo l'idea aziendale è quella di fare sempre un prodotto di prima qualità. Quindi la raccolta è tutta manuale quindi bisogna stare lì piegati sul fiore a raccogliere a uno a uno tutti gli stessi. A uno a uno poi si rientra in azienda vengono tutti gli stimmi e vengono puliti e alla fine essiccati ed è pronto per la vendita a parte il bustamento e cose varie che poi facciamo. Voi dove lo esportate ma noi lo esportiamo anche all'estero quindi va bene nella zona di Milano tantissimo poi in Germania Bruxelles in Svizzera e ora grazie all'aiuto di uno chef anche a Londra quindi lo chef è Luigi Ferraro? lo chef è Francesco Mazzei Francesco Mazzei che è uno chef chiaramente calabrese che porta alto il nome in quel di Londra della nostra terra con anche i suoi piatti che si spiano anche un po' ai nostri con i nostri prodotti cerca sempre insomma di portare avanti la nostra qualità e questo è quello che fanno i nostri calabresi nel mondo diciamo che punta tanto sui prodotti calabresi quindi mi ha fatto molto piacere anche partecipare con lui con questa sfida di far conoscere un prodotto che in Calabria è poco conosciuto però ha una valenza storica veramente secondo me che bisogna portare avanti tante aziende tanti giovani hanno chiesto un parere per piantare zafferano a Cosenza io gli sto dando una grande mano e gli faccio capire che poi non è tanto il coltivare il prodotto poi alla fine è metterlo sul mercato che è difficile perché ci ritroviamo con dei competitor che abbassano i prezzi per la qualità e allora dobbiamo distinguere le aziende che vogliono la qualità veramente italiana o le aziende che poi decidono di vendere un'altra qualità tutto questo a proposito di tecnologia insomma voi giustamente ci diceva che è impossibile usare tecnologia perché la raccolta si fa tutta a mano però sono anche nell'azienda di Fulvia Caligiuri per la raccolta degli asparagi utilizzate un macchinario particolarissimo allora lì è stata una cosa nata per gioco nel senso che in una fiera abbiamo visto delle macchine e abbiamo detto ma forse sai che queste macchine possono essere adattate alla nostra esigenza abbiamo fatto fare delle modifiche però insomma a questi macchinari già esistenti e queste macchine sono simpaticissime perché insomma io le chiamo le macchine di topolino sembrano proprio le quindi vanno delle persone una avanti una dietro tra i filari degli asparagi e quindi le donne sono sedute e man mano va avanti e raccolgono l'asparago facendo insomma meno difficoltà e sicuramente in maniera più veloce quindi invece di stare piegate chinate insomma sono sulla pianta è una questione anche di velocità della raccolta dell'asparago perché insomma manualmente senza questa macchina ci mettevamo molto di più come tempo e con più personale in questo modo insomma possiamo destinare il personale a fare altro una parte del personale a fare altro mentre invece sul terreno rimangono insomma nella raccolta meno personale quindi innovazione tecnologia le nostre aziende direttore Salvino voglio insomma punzecchierla su quello che ha detto prima Fulvia Caligiuri parlando anche del sostegno che c'è bisogno anche della regione Calabria non solo per sostenere e aiutare le organizzazioni di produttori ma anche per dare insomma rivedere il settore ortofrutticolo e soprattutto quello riguardante le pesche dove c'è grande concorrenza e vorrei anche chiederle questo partendo anche da quello che ha detto l'imprenditore Mallamace sul mercato internazionale perché è difficile poi per le nostre aziende inserirsi nel mercato forse anche in questo ci vorrebbe un sostegno un supporto della regione Calabria Sì come dire le problematiche sono tante quindi c'è l'aspetto di aumentare la competitività delle imprese abbassando diciamo tra virgolette i costi di produzione tenendo presente insomma lo diceva prima l'ottoressa Caligiuri che per fortuna le aziende agricole non sono aziende che si delocalizzano facilmente perché il terreno non lo puoi portare non lo puoi portare in Romania o in altre cose delocalizzare l'impresa Caligiuri significa abbandonare abbandonare i terreni e andare a produrre in altre cose attraverso il PSR noi vogliamo aumentare la competitività delle imprese c'è una misura specifica di cui adesso non ricordo il numero ma dovrebbe essere la misura 19 se non ricordo male che dà degli aiuti per la costituzione di nuova organizzazione diciamo di produttori e questo va diciamo nella direzione come dire di fare quell'aggregazione di produttori per avere una quantità di prodotti maggiore e avere diciamo prezzi più competitivi nei riguardi della grande distribuzione oggi purtroppo il mercato le attività commerciali sono come dire sono sotto le gira della grande distribuzione che come dire fanno le regole tra cui pure i prezzi di acquisto dei prodotti chiaro che se io vado a vendere una quantità minima di prodotti il prezzo che riesco diciamo ad avere è veramente diciamo ai minimi teni se viceversa c'è questa aggregazione ma questo anche alcune filiere ad esempio se io penso alla filiera agrumicola della piana di Gioviatao di Rosanno lì c'è come dire c'è un ciclo di produzione delle aranje che è molto breve quindi nel giro di una settimana 15 giorni tutto il prodotto diciamo viene messo in mercato e quindi lì come dire automaticamente insomma c'è una diminuzione diciamo del prezzo se viceversa attraverso diciamo una attraverso diciamo una diversificazione anche delle culture ecco questo periodo di produzione si potesse allungare sicuramente la competitività delle aziende sarebbe sarebbe maggiore quindi questo è un fatto su cui noi stiamo lavorando e il PSR appunto oltre alla misura dell'OP alle misure dei PIF i piani integrati diciamo di filiera dove appunto è possibile e nei PIF si premia l'aggregazione di più produttori l'aggregazione di più produttori proprio per venire in conto a quello che diceva prima la dottoressa Caligiuri poi per quanto riguarda la commercializzazione noi ovviamente alle imprese possiamo offrire delle opportunità e Expo è una grande opportunità dove come dire noi stiamo cercando di far partecipare tutte le aziende a ottobre dal mese dal 10 al 14 ottobre si terrà a Colonia la più grande diciamo fiera sull'agroalimentare che è a Nuga noi lì saremo presenti diciamo come regione Calabria quindi con un nostro stand al quale parteciperanno circa 50 aziende che abbiamo selezionato sul territorio è intenzione anche per quanto riguarda il prossimo anno il 2016 organizzare la presenza della regione Calabria in questi eventi fieristici in modo più razionale diciamo e più unitario di quando sia avvenuto nel passato ad esempio c'è una grandissima manifestazione che si tiene a Verona aprile-maggio se non ricordo male che è il Vinitaly che è una vetrina internazionale ecco lì vogliamo che tutti i produttori calabresi del vino siano sotto un unico stand proprio per fare un marchio Calabria diciamo ben diciamo creiamo questo brand Calabria anche perché in alcuni settori lei ha parlato del vino ma anche se vogliamo parlare dei formaggi piuttosto che dell'olio o dei peschetti insomma della piana di Sibari là veramente c'è bisogno di un brand del brand Calabria che si lavora insieme anche perché se prima io faccio autocritica nei confronti di noi produttori che non sappiamo tanto stare insieme tra produttori e quindi un invito a fare rete a fare massa critica l'invito è anche verso le istituzioni cioè il fatto che ci presentiamo prima il direttore ha fatto l'esempio di Vinitaly con la Calabria spezzettata cioè ognuno va per i fatti suoi non è una bella immagine anche perché i produttori insomma vorrebbero sentirsi fare rete tra di loro ma sentirsi circondati da un'altra rete che è quella delle istituzioni io quando dico bisogna fare quadrato intorno alle aziende che producono che ce la mettono tutta per non abbandonare i terreni anche perché si andrebbe incontro a altre tipologie di dissesti ad abbandonare i terreni quindi le agricolture sono anche sentinelle sul nostro terreno insomma bisogna dargli anche l'attenzione che meritano come settore agricolo non è solamente quello che riusciamo a produrre quello che facciamo come PIL anche quello che diamo ad altre tipologie di problemi se dovessimo decidere di lasciare i nostri terreni quindi insieme alla rete tra imprese io chiederei anche una rete tra istituzioni per non lasciarci soli per dare importanza a chi veramente insomma lavora e opera in Calabria cercando di rispettare insomma tutte le normative un altro invito che io mi sento di fare è che è verissimo quello che diceva il direttore cioè si sta operando nel modo la mia modesta opinione è giusta con il nuovo PSR favorendo l'aggregazione e l'innovazione e la commercializzazione un altro aspetto però non va sottovalutato la tutela dei nostri prodotti perché è verissimo quello che dicevo io sulla concorrenza io chiamo sleale perché insomma se hanno costi inferiori si riesce a produrre facilmente insomma si gioca facile così però se noi riusciamo a far capire a chi acquista i nostri prodotti la differenza tra un grammo di zafferano prodotto qua e un grammo di zafferano prodotto in un altro posto un chilo di pesche nostre e un chilo di pesche spagnole un litro di latte fatto qui un litro di latte fatto altrove è tutto cioè potrei continuare all'infinito gli stessi agrumi forse anche una difficoltà sui mercati potrebbe essere non dico superata del tutto ma insomma un gradino in più si fa tutto insieme allora l'invito che in questa regione Calabria può essere veramente insomma di traino no? dare quell'idea e le motivazioni giuste infatti quando diceva la parte scientifica circolano una serie di cose non vere in giro su alcuni nostri prodotti fondamentali anche della dieta mediterranea che dovrebbero essere sfatati e non è una singola azienda che deve dire la differenza ma è la regione che sottostà a questi territori insomma a queste aziende agricole che dovrebbe mettere in evidenza le nostre qualità il nostro saper produrre rispetto al mondo intero perché altrimenti poi insomma veramente uno va al supermercato dice un chilo di pesche tunisino o calabrese quello che costa di meno che differenza c'è? una bustina di zafferano calabrese rispetto a una bustina di zafferano nell'India che differenza c'è? sicuramente un prezzo più basso compro ma non è così che bisogna fare la scelta perché altrimenti insomma noi siamo perdenti sul nascere e poi un altro invito è di fare molto attenzione nel prossimo PSR sull'accesso al credito perché una delle motivazioni che non ha consentito di finire io dico col botto nel senso che con la tranquillità estrema che tutte le risorse impegnate con la vecchia programmazione potessero essere spese ancora insomma è un punto interrogativo sono dovuti al fatto che uno non si è data l'attenzione all'accesso al credito era stato creato uno strumento tipo Fincalabra che però ha zoppicato inizia a funzionare da poco Fincalabra cioè inizia a fare quello che doveva fare anni e anni fa solo da poco e non dimentichiamo anche un aspetto di velocità ricordiamoci che nella scorsa programmazione i bandi sono stati con graduatorie pubblicate poi cancellate e sono passati altri due anni noi aziende agricole due anni non ce li possiamo permettere perché in due anni cambia il mondo intero però su questo mi pare che proprio in questi giorni il vicepresidente ha detto che metterà a mano la burocrazia regionale insomma salutificando le procedure però è giusto insomma sottolineare quali sono gli aspetti sui quali noi vogliamo porre l'accento perché altrimenti non accesso al credito questo penso sia un tema fondamentale anche in agricoltura il credito è fondamentale soprattutto in agricoltura perché i fondi comunitari non finanziano il cento per cento gli investimenti sono un aiuto un aiuto che è dato e quindi l'imprenditore se prende cento da questi progetti che presenta cinquanta li ha a fondo perduto e cinquanta diciamo deve investirli le logiche europee vogliono purtroppo che per avere i cinquanta che ti dà che ti dà la comunione europea tu devi devi diciamo pagarli questi cinquanta quindi devi anticiparli quindi c'è una grossissima difficoltà che è stata diciamo che è molto diciamo più accentuata è molto diciamo più accentuata oggi che nel passato con una contraddizione del nostro sistema economico che fa paura insomma no perché se io vado in banca a chiedere mille devo dare in garanzia mille se non ho mille io non posso non posso diciamo fare niente e c'è anche un'ulteriore contraddizione perché oggi l'ABC l'ABC praticamente i soldi alle banche tra virgolette di regalo che lo si chiama un tasso bassissimo 0,15 0,25 però il tasso che le banche praticano ai comuni ai cittadini agli emettori non è non è non è quindi noi siamo coscienti che questo è un aspetto critico poi tra l'altro in Calabria ancora più alto rispetto in altre regioni lo è stato diciamo nel vecchio PSR lo sarà nel nuovo su questo noi abbiamo già fatto una convenzione con Ismea che appunto l'istituto del ministero che si occupa degli aiuti diciamo in agricoltura per mettere appunto degli strumenti innovativi di accesso al credito garantite in parte diciamo i garantiti diciamo da Ismea che attraverso diciamo un pool di banche diciamo come dire offre diciamo questa possibilità di garanzia agli imprenditori da qua a breve non appena diciamo il PSR avrà l'imprimatum ufficiale noi faremo delle riunioni operative con Ismea con la nostra finanziaria regionale e anche con le banche diciamo calabrese proprio per mettere a punto questo strumento che è uno strumento fondamentale se vogliamo che le procedure di spesa avanzino e avanzino bene questo chiaramente per l'agricoltura ma io mi permetto di dire che seguiremo veramente a tutto il sistema produttivo però mentre voglio dire il sistema gli altri sistemi imprenditoriali mi riferisco alle altre aziende c'è un sistema di confidi che ha una storia un po' più lunga dei confidi dell'agricoltura forse lì qualche problema qualche problema in me non c'è ma qualche problema il problema generale rimane di questo di questo grosso squilibrio che il sistema bancario ha che come dire se io voglio voglio dei soldi devo avere devo dare impegno diciamo l'equivalente di quello che mi ottengo e su questo ovviamente se uno ci dà i soldi non vai in banca e chiederlo se vai in banca e chiede si fa che non ce li ha quindi noi dobbiamo mettere dobbiamo dare gli strumenti di garanzia al sistema bancario che come dire questi soldi diciamo rientri non so se Fulvia Caligiuri voleva aggiungere qualche cosa no no era giusto una battuta perché il direttore ha un tasso molto basso e poi invece a noi riservano un tasso quando siamo fortunati e ci danno il credito perché insomma la maggior parte delle volte non è solamente una questione di merito creditizio è una questione che proprio non vengono girati i soldi per il settore agricoltura direttore cioè tutte le banche hanno avuto i soldi dall'ABC a questo tasso agevolato ma non tutte le banche hanno deciso di riversarlo con mutui cioè mettendo dei mutui li hanno tenuti per ricapitalizzare il proprio patrimonio la maggior parte di loro non girandola ma nemmeno dicendo ma provate a chiedere un mutuo era proprio chiuso il sistema creditizio maggior ragione perché siamo in Calabria che fa parte del meridione e quindi abbiamo un costo del denaro molto più alto Diego Malavaci per aprire la sua azienda ha avuto insomma investito ha avuto anche il sostegno di un finanziamento pubblico no io ho aperto la mia azienda diciamo con le mie forze non ho cercato diciamo all'inizio un sostegno perché era iniziato un lavoro per capire se realmente si poteva creare poi a livello lavorativo e a livello di qualità questo prodotto e devo ringraziare la regione Calabria che mi ha diciamo mi ha fatto partecipare a delle fiere che ho organizzato da loro quindi mettere in mostra anche il il mio prodotto all'estero dove siamo stati anche a tutto food che abbiamo partecipato con la regione Calabria penso che col prossimo PSR che uscirà sicuramente vediamo di anche noi chiedere qualche finanziamento per poter insomma allargare un po' l'azienda e per aumentare il prodotto e quindi speriamo di avere qualcosina in più certo non è facile come parlava Toressa Carigiuri perché è difficile fare accesso al credito vediamo un attimo come come si può fare come si riuscirà a risolvere questo problema anche voi avete insomma soffrite un po' il fatto che non c'è un brand Calabria che non siete ben soffriamo questo io ho a che fare con molte aziende siamo molto in sinergia con aziende sia del Regino sia della regione Cosenza che quindi che mi trovo veramente bene quindi stiamo lavorando insieme tra di noi c'è molta sinergia dietro invece vediamo che non è bene rappresentata non è bene rappresentata perché ci vorrebbe qualcosa in più per rappresentare diciamo i prodotti calabresi in maniera come diceva la Toressa Carigiuri più efficace per non essere poi abbattuti dalle aziende estere che vengono con prezzi bassissimi io non so se lei insomma ha fatto studi insomma istituti agrari qualcosa del genere no ok no gliela faccio questa domanda gliela faccio questa domanda gliela faccio questa domanda perché tra poco voglio parlare con voi anche di questo perché è iniziata da poco la scuola e gli istituti agrari insomma hanno avuto mille iscritti in Calabria voglio commentare questo con voi però tra poco subito la pubblicità restate con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti